FACIAL TIMES FACIAL TIMES E' importante, si allegra come la religia 24 ore quando ci viene di sogno Che hai fatto? Un po' di nostri tutti, noi siamo canadesi, ci richiamo il nostro heritage C'è il nostro negozio di chi siamo Ma questa è Vieni di Canada Ci sono questi tocchi di Canada Un po' lagnolto, un po' il corno Poi dopo noi volevo fare un contrasto Che siamo a Milano, siamo made in Italy Italiano, stiloso, moderna Poi c'è questo contrasto di acciaio Acciaio nero Industrial Design Meets Canadian Heritage Giovani si chiama Storage Che noi lavoriamo molto bene insieme Con fini che discutono tutte le cose Come potete fare L'unica cosa in giro E poi dopo è carino perchè L'ora dei giovani è un progetto Che loro hanno messo in tante loro cuore Così è il nostro cuore, loro fuori insieme Cosa che dipendava nel negozio Non di noi Ma è una cosa che riflette noi Come persone Cosa sarebbe Come un negozio E poi è una cosa che non E' una cosa che non Che è invitante Che non è intimidante Che la gente si sente comodo Non si sente l'oraggio Non si sente elegante Non è un ambiente freddo Che non ricoglie la gente Con l'alto di spira calda Ogni scale E lo ottima иваем Che tra l'alto di me Ogni campanino è diversa Abbiamo campanini con tipo Fireplay, anche campanini per tutti, la battuglia, c'è anche campanini che c'è il video che cambia, l'invernale che abbiamo le scenografie, l'altura, gli uccellini che suona, un po' un piccolo vicino. Questo spazio che è un spazio molto grande per Cento Milano e non è molto facile di far prestare, però piano piano la strada sta diventando importante, ci sta mettendo un parcheggio sotto la terra. Quando la gente viene qua viene perché è andato a cercare. Grazie per la visione!